Colgo l'occasione per dire ai ragazzi, ai giovani, specialmente ai giovani, maschi e femmine che siano, ascoltate sempre i buoni consigli dei genitori, perché il proverbio che sto per dirvi appartiene proprio a questa cultura, alla cultura che dovete ascoltare quelli che vi dicono i genitori. I genitori vi mettono sempre sulla strada giusta, sulla strada anche per esperienze vissute. Allora è stato attento qui, è stato attento da. E il proverbio dice che non ti vuole bene più di padre e di mamma, o ti vuole bene più di padre e di mamma. Che significa? Significa che chi ti vuole bene più di padre o di mamma, o ti vuole bene, e ti fiera da mercato, o ti vende, o te fiera, o ti inganna, da inganno, o te din, o ti inganna. Che ne ti vuole bene più di padre e di mamma, o te fiera, o te inganna. Perciò seguite sempre i consigli e le buone parole dei genitori, dei genitori. Arrivederci. Arrivederci.